Tutto stanco? Pescatore! Vergogna! Vergogna, signor pescatore! Vergogna, vergogna! Sì, sì, signor compagno di pesca. Ma sapesse come sono sempre. Così. Ma io la elimino, sa? Non mi elimini. La caccerò fuori! Lei, mio caro signor pescatore. Pesca nel modo più. Così. Vero che non è questo il modo di fare di un pescatore modello? Sì. Però... Però? Se non fossi così tutto stanco... Io sarei un pescatore modello. pescherei sardine, trote, storioni, valene, mine. Mine? Farei anche la pesca subacquea. però... Però... Sono così. Così. Tu sei sempre tutto stanco perché non riposi super su Permaflex. Permaflex! Il famoso materasso a molle. Permaflex! Ma lo compro anche io domani. Anche voi acquistate Permaflex. Ma attenzione. I veri rivenditori autorizzati Permaflex hanno questa insegna. Sono negozi di assoluta fiducia. Permaflex! Il famoso materasso a molle.